Ciao a tutti amici, sono io, Yulia Wu, e oggi sono qui per aprire insieme a voi il Super Pasqualone di Regal Academy. Allora ragazzi, ve lo mostro così perché altrimenti non saprei come fare, perché non entra nell'inquadratura. Comunque, alcuni di voi me l'avevano chiesto, così oggi lo apriremo insieme. Prima di iniziare, vi ricordo inoltre che ho fatto una puntata di edicola proprio dedicata a Regal Academy, in cui aprivamo insieme 10 bustine. Quindi se volete, andatela a vedere. Nel caso vi interessi, vi lascio nella descrizione del video il link del sito dove poter acquistare il Super Pasqualone di Regal Academy. Bene, direi di incominciare e direi che è arrivato il momento di aprire la scatola. Comunque, in ogni Super Pasqualone dovremmo trovare una bacchetta di rose, che sarebbe la protagonista, una bambola Real Friends e un diario segreto, più inoltre un'altra sorpresa. Eccolo qua. Anche questo è abbastanza grande, sinceramente. Apriamo l'uovo. Wow! Allora ragazzi, come altra sorpresa c'è appunto un Bunch of Balloons. Ne ho anche un'altra bustina. Se mai un giorno li proveremo insieme. Quindi questa era la sorpresa speciale. Poi, vediamo, che carina! Ho trovato Rose! Gli altri personaggi dovrebbero appunto essere Astoria, che dovrebbe avere le scarpe gialle, e poi Joy, che invece ce ne deve avere Celesti. C'è appunto il diario, adesso li vedremo insieme, e poi questo, che sarebbe la bacchetta di Rose. Quindi, allora, procediamo con ordine. Direi di partire dal diario, che è il più semplice. Quindi, allora, il diario. Ci sono appunto le... Le tre ragazze, la protagonista Rose, ha Astoria e Joy. Cioè, dietro c'è scritto Regal Academy, mentre dentro ha queste decorazioni floreali. È carino, volendo si potrebbero fare... Non solo scritte, scrivendo proprio tipo pagine di diario, ma anche disegni, essendo pagine libere senza rigli. Tra l'altro qua dice il mio diario, quindi potremmo scrivere il nostro nome, una piccola presentazione. Carino, insomma. Piccolino, lo si può mettere dovunque. Bene, passiamo adesso alla bacchetta. Eccola qua. Allora, dice, come nella serie TV. Lancia e cattura. Qui ci spiega come utilizzarla. Qua un'altra spiegazione. Va bene, direi di aprire la confezione, che poi non è neanche aprire, visto che basta togliere questo gancettino, chiamiamolo così. Ed ecco appunto la nostra bacchetta, proprio com'è nella serie. È molto carina e devo dire che è fatta davvero bene. Togliamo anche la pellicola qui. Essendo di rosa, appunto, diciamo, alla fine è formata da una zucca, perché Rose deve avere per forza una zucca. Se noi alziamo questa levetta, si dovrebbe aprire e dovrebbe uscire la pallina. Perché? Giudiamo. Perché noi, appunto, dovremmo premere e poi tirare. Ovviamente io non ho forza. Ecco, più o meno, aiuto. Potremmo fare una prova, per esempio, verso il letto. Ok, tralasciando il disordine, proviamo. Quindi, si preme e si va. Ok, ho sbagliato. Ok, questa volta ce la dovrei fare, quindi. Premi e vai. Ecco, più o meno. Ok, proviamo un'ultima volta, sperando che esca bene. Ok, diciamo che funziona, bisogna solo imparare ad utilizzarla. E infine, passiamo alla bambola, che sarebbe il pezzo forte, un po', di questo uovo. Allora, la scatola, ve la faccio vedere così, in modo tale da farla entrare nell'inquadratura, è carina. Ha una forma particolare, perché qui è un po' storta, diciamo. E poi non è proprio quadrata, perché qua è un po' più rotonda. Ci sono appunto i tre personaggi che potremmo trovare, Rose, Astoria e Joy. E dietro ci mostra, appunto, le loro versioni bambola. Eccole qui. E qua ci sono le scarpe insieme al pettine. Ci sarebbero gli accessori inclusi. Bene, allora, apriamola subito. Ok. Ok, eccola qua. Qui c'è appunto il pettine. Fucsia. Ho già provato un po' a pettinarle i capelli, perché erano davvero scompigliati appena usciti dalla scatola. Comunque carina. Mentre qui ci sono le scarpe. Carine anche queste. Sempre fucsia. Sempre fucsia. Abbinate alla spazzola. E penso che almeno per Rose siano adatte, visto che si chiama Rose cenerentola. Perciò. Quanto riguarda la bambola, è troppo magra, secondo me. Ha le cosce che non si possono definire tali, davvero. Comunque, partiamo dal viso. Ha questi occhioni azzurri bellissimi. Non ha per niente trucco. Solo un po' sulle labbra, un po' di rossetto. Ma neanche si nota. Allora, i capelli sono un qualcosa di lunghissimo. Guardate. Lunghissimi, davvero. Neanche fosse Rose Rapunzel, Raperonzolo, una cosa del genere. Parlando sempre di capelli, sono in questo biondo platino. E sono abbastanza mossi. Però il fatto che siano appena usciti dalla scatola li rende un pochino così, un pochino andati. Però col tempo si dovrebbero aggiustare. C'è appunto il cerchietto che, volendo, si può anche togliere. Però, ovviamente, per evitare di perderlo, oppure di doverlo rimettere ogni cinque minuti, preferisco tenerglielo attaccato alla testa. Come vestiti ha questa giacchettina violetto. Poi, questa magliettina, e sono attaccati i vestiti. Rosa, con rosa fucsia, con questa scarpettina bianca. Poi, questa gonna, cortissima, nera e bianca. E poi, da sotto, dei leggings, che sono, secondo me, di un bianco un po' rosato. Poi, ha queste scarpe, molto belle, devo dire, che sarebbero, tipo, un incrocio fra Converse e Dr. Martins, secondo me. Sono carine, rosa e nere. E con un leggero tacco, ma proprio leggero. Come potete vedere, è davvero magrissima. Comunque, è bendable alla spalla, al gomito, al polso, alla testa, all'anca e infine al ginocchio. E anche, penso, al piede, alla caviglia, scusa. Allora, ah no, non è bendable, ok. No, togliamo, un attimo, le scarpe, in modo tale da mettergli queste qui. Eccole qua, ovviamente, si intonano alla maglietta. Eccole. Perciò, ragazzi, che vi posso dire? Di certo, è molto carino, quello che ho trovato. Poi, se siete grandi fan della serie, Regal Academy, dovete assolutamente acquistarlo. Perché la bambola, qualunque, penso, troviate, sarà comunque bella. Io ho avuto la fortuna di trovare Rose, che è il mio personaggio preferito. Sono comunque carine le sorprese, poi, se trovate Rose e, appunto, la bacchetta, la bacchetta di Rose, sicuro. Se poi trovate anche la bambola, diciamo, avete fatto un buon accoppiamento. Poi, anche il diario è abbastanza carino. Perciò, sì, ve lo consiglio. Bene, adesso passiamo ai saluti. Bene, adesso passiamo ai saluti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!